Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, Good Morning Milano, come state? Mercoledì 21 febbraio 7.09, sempre qui puntuali su Crystal Radio con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Riaccontiamo la città, leggiamo i giornali, tanti ospiti verranno a raccontarci un po' questa giornata di mercoledì 21 febbraio. Questa seconda o terza giornata, adesso ho già perso il conto, della Fashion Week, parleremo anche di quello sicuramente, ma parleremo anche di quello che vorrete voi, perché al 331 78 53 555 potete tranquillamente scriverci. Ricordiamo che c'è anche in arrivo un sciopero dei treni verso fine settimana, ma adesso poi capiremo meglio come andrà, venerdì dovrebbe essere appunto questo sciopero dei treni. Quindi attualmente, almeno così sembra per il momento, nessuna indicazione invece da parte di ATM, ma potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma per ora nulla nulla di che. Quindi per adesso, sciopero 23, tranquilli, non c'è problema a Milano, ATM circola. Questa mattina fino alle 9, come sempre, in diretta qui su Crystal Radio. Io vi ricordo sempre che potete ascoltarci dalla vostra autoradio sia in FM che in DAB Plus o dalla radio in casa, chissà se qualcuno di voi ha ancora la radio in casa, non so. Ma soprattutto, tranquillamente da ovunque voi siate, con il vostro smartphone, la app per iOS e Android, e anche il sito internet www.crystalradio.it. E infine, da lunedì, andiamo anche al nostro sito www.goodmorning.milano.it. Sempre aggiornato e potete riascoltare e rivedere tutto quanto. Tiziano Ferro, stop, dimentica. E perché abbiamo aperto con Tiziano Ferro? Perché oggi è il 21 di febbraio e nel 1980, che annata signori, nasceva Tiziano Ferro. Vabbè sì, come me, siamo Coetanei, io il Tizzi, Cremonini e Cattelan. E Cattelan, siamo tutti dello stesso anno, quindi vabbè, insomma, mi spiace per loro, io sono quello più famoso dei quattro, vabbè, mi spiace per loro che devono vivere un po' la mia ombra, ma succede, succede quando si è il conduttore del morning show più seguito in tutto il mondo e anche sulla Luna. Perché sapete che la NASA sta portando internet sulla Luna? L'ho letto ieri nel museo delle fake news, ma era una notizia vera, cioè non è una fake news, stanno provando questo esperimento. E pensate, se arriverà internet sulla Luna, anche lì potrete ascoltare Good Morning Milano. Guardate dove arriviamo, eh signora mia, eh, dove arriviamo. Arriviamo un po' ovunque, dicevo appunto oggi è il 21 febbraio e oltre ad essere il giorno che ha dato i Natali a Tiziano Ferro, è anche il giorno in cui nel 1959 è stato ideato il simbolo della pace. Pensate voi, no? Quello lì che sembra quello della Mercedes, ma non lo è, è così quello lì. No, è il simbolo della pace, è molto più importante, è un simbolo globale ormai riconosciuto in tutto il mondo appunto nell'utilizzo e nella richiesta di pace. Pensate dal 1959 oggi quante volte è stato usato e ahimè quanto poco è cambiato, soprattutto nelle tantissime guerre che affliggono il nostro mondo. Ormai come in questi giorni forse dovrebbe essere rispolverato da tutti quanti, negli anni poi sappiamo oltre al simbolo si è unita anche poi una bandiera che per fortuna cominciamo anche a rivedere sui balconi delle nostre città. Chi ha qualche anno magari in più come me se li ricorda negli anni 90 e nei primi 2000 durante la guerra anche in Jugoslavia, guerra del Kosovo, quanti alla finestra avevano messo le bandiere della pace. Ecco, forse sarebbe interessante se ogni tanto si tornasse a rispolverare certe sane abitudini nel distaccarci da certi momenti che ci sono nel mondo e quindi chiedere il cessate il fuoco come stanno facendo in tanti. Ad esempio anche il comune di Bucinasco ha richiesto con uno striscione proprio il cessate il fuoco e anche appunto magari noi cittadini così mettendo una bandiera della pace alla finestra per far capire che non si sta né da una parte né dall'altra ma si sta solamente contro le guerre. Città che diceva appunto dai tanti balconi ma dalle tante anche vie e strade che sicuramente in questo momento voi starete solcando e quindi 3317853555 potete scriverci e dirci dove state andando in questa mattinata milanese. Ecco, intanto leggiamo il whatsapp che ci arriva ad Alberto, buongiorno a tutti i cristallini, allo zio Fabio che quotidianamente ci tiene compagnia, sempre qui mi raccomando. Io non vado da nessuna parte, mi raccomando anche voi però rimanete qua se no a chi parlo invece no, siete in tanti a seguirci. Ho letto, dice Alberto, che questo sarà l'ultimo giorno asciutto del periodo e poi avremo pioggia per qualche giorno. Le polveri sottili hanno le ore contate? Eh speriamo, a sto punto mai come in questo caso speriamo che arrivi una bella pioggia purificatrice di quest'aria maledetta che stiamo respirando in questi giorni. Le colonnine che arrivano a dei livelli mai visti prima, qualcosa è andato storto sicuramente, qualcosa non ha funzionato sicuramente, forse di base è il problema che siamo veramente tra tanti e troppi. Quanti siamo e cosa stiamo facendo? Ce lo dice anche Luce Verde in diretta qui su Cristian Radio con il traffico in questo istante. E ancora qui in diretta a 7.22, Cristian Radio Good Morning Milano, iniziamo con un po' di notizie, finalmente una bella notizia, o meglio da una brutta notizia si arriva a una bella notizia. Qual è la notizia? Dalla Repubblica Milano leggiamo, bicicletta recuperata in 48 ore grazie al GPS. Eh sì, l'interessato dice, me ne avevano già fatte sparire due e ho messo il rilevatore. Il nucleo bici rubati dai vigili la recupera all'ortomercato e infatti il segnale puntava dritto all'interno dell'ortomercato. Sarà perché non c'è due senza tre ma dopo che gli avevano già rubato un paio di bicicletti il 14enne Omar aveva pensato bene di premonirsi dotando stavolta la preziosa due ruote di un rilevatore GPS. E ci ha visto lungo perché appunto c'è stato il furto, quasi puntuale dice Repubblica, e poi dopo solo le 48 ore sono riusciti a recuperare all'ortomercato la sua rockrider. La bicicletta, sapete qual è quella che vendono lì, però insomma se è l'unica bicicletta che hai tra parenti poi non è che proprio te la regalano, cioè è un costo. È un modo per muoversi in bicicletta a 14 anni poi non è che c'è tanti altri modi per muoverti, anzi complimenti che si muove in questa maniera Omar che dice anche l'avevo pagata 250 euro, l'avevo comprata con i miei risparmi, quindi insomma ero abbastanza, mi giravano un po' il fatto che ve l'avevo rubata ancora. Beh, bravo Omar, è riuscito a fare un ottimo, insomma ci ha pensato bene, ha messo appunto il rilevatore GPS ma soprattutto complimenti al nucleo bici rubate dei vigili urbani di Milano. Perché esiste, c'è anche un sito, c'è anche una pagina Facebook dove mettono le foto delle bici che ritrovano e tutto e se voi riuscite a dimostrare anche semplicemente con una foto in compagnia di quella bicicletta, quindi io vi dico sempre, quando comprate una bici fatevi fare subito una foto insieme alla bicicletta, così se ve la rubano potete dimostrare che quella lì è vostra e semmai riportartela a casa grazie appunto all'intervento del nucleo dei vigili urbani delle bici rubate. Una bella notizia finalmente dalla nostra città, quindi questa è la resilienza, ti rubano una bicicletta ma riesci a farla diventare una buona notizia. Complimenti a Omar e complimenti al nucleo bici rubate dei vigili di Milano. Elodie, affari spenti, bentornati alla seconda mezz'ora di trasmissione sempre qui su Cristian Radio con Good Morning Milano. Da Repubblica Milano leggiamo che la questione San Siro si evolve, o meglio oggi sono due notizie che hanno a che fare con San Siro, una con lo stadio, una invece col quartiere. Partiamo da quella del quartiere, va bene, allora è stata sgominata Milano, leggiamo, spaccio di droga a San Siro, in un mese e mezzo 35.000 chiamate ai pusher delle due bande, che vendevano coca, hashish e ossicodone, ma è anche quella roba che adesso viene chiamata l'eroina dei poveri, così viene chiamata anche un tipo di droga che viene appunto venduto in queste zone. Sì, Repubblica e Corriere ne parlano, perché appunto 21 arresti ieri per queste due bande sgominate in zona San Siro. La cosa che ha sconvolto anche gli investigatori sono state proprio queste linee telefoniche dedicate, praticamente delle hotline dedicate all'e-commerce di droghe. Tu chiamavi e dicevi l'autoposizione cosa ti serviva e un rider con monopattino o motorino o bicicletta te lo portava direttamente a casa. Sono state messe sotto controllo appunto delle linee telefoniche e nel periodo di questo mese in cui sono state fatte queste indagini, nell'ultimo appunto, nell'ultimo mese, 35.000 chiamate su queste linee. Pensate cosa significa, cioè davvero è un'entità di numero esorbitante. ieri appunto l'operazione congiunta delle varie forze dell'ordine che ha portato all'arresto di 21 persone tra i 19 e i 63 anni. Ci sono appunto varie personalità appunto all'interno di questa retata che appunto ha portato tra una veniva chiamata, c'erano due associazioni delinquere, una è chiamata Telefono Rosso e l'altra Falterona che ha a che fare ovviamente con le vie in cui si trova Piazzale Selinunte, Via Zamagna, Via Traccia, Via Cittadini, Via Ricciarelli, Piazza Monte Falterona ma anche Piazzale Lotto e Piazzale Zavattari fino a spingersi in Piazzale Brescia in quel quartiere che viene chiamato anche secondo me oltretutto erroneamente San Siro perché San Siro è un'altra roba, è lo stadio di San Siro che appunto ha qualche centinaia, decine, centinaia, centinaia di metri da lì e che vede per l'ennesima volta cambiare ancora scenario o meno c'è una nuova apertura, una possibilità che finora non si era ancora sentita o meglio che cosa, San Siro, dice Repubblica Milano giovedì vertice tra Inter, Milan e Comune per valutare la possibilità di ristrutturare lo stadio quindi finalmente c'è questo vertice, ma sembrerebbe che nel frattempo l'Inter e il Milan, o meglio il Milan, abbia fatto un paio di telefonate all'Inter per dirgli ma vuoi venire a San Donato con noi? Eh sì, sembrerebbe che ci sia anche questa possibilità che San Donato possa diventare di nuovo lo stadio di entrambe le squadre milanesi e che quindi cosa si farà della ristrutturazione? Sta di fatto che giovedì insieme al Comune ci saranno Inter e Milan a un tavolo per capire e valutare meglio la proposta di WeBuild ricordiamo che il Milan ha già fatto un sopralluogo insieme proprio a WeBuild allo stadio di San Siro, tutto molto segreto ma c'era solo il Milan, non c'era l'Inter quindi non si sa che cosa sia uscito sappiamo da quello che sono le versioni ufficiali che al momento ancora il Milan spinge per San Donato e che quindi, forse, come diceva qualcuno tempo fa luci a San Siro non se ne accenderanno più luci a San Siro e poi ricordo sempre che quando si parla di questa canzone in realtà non si parla dello stadio è perché è stato svelato poi negli anni che in realtà Vecchioni parlava della montagnetta di San Siro in cui con la sua 600, la sua macchina, andava insieme alla fidanzata ebbene sì, è questa un po' la storia che c'è dietro a questa canzone ma noi l'abbiamo messa appunto ricordando invece e parlando di stadio è il 21 febbraio, è la settimana della Milano Fashion Week non potevamo non parlare di questo ne parliamo con la nostra ospite che è qui insieme a noi Céline, buongiorno Céline ciao, buongiorno, buongiorno a tutti allora come stai, come va? bene, in realtà sono già stanca inizia oggi oggi è il primo giorno praticamente, hai iniziato ieri ma ieri poca roba, giusto? sì, ieri è più digitale più digitale e inizia oggi e iniziamo con Iceberg e poi c'è Fendi oggi anche ah, ma tu le vedi tutte, no? è possibile vederle tutte? no, no, no anche se si vuole non si può, credo sì, non si può cioè non riesci insieme non ce la fai no, no, perché c'è ogni sfilata ha un'ora però normalmente inizia tipo 30 minuti dopo quell'ora ah perché tutti sono in ritardo tutti arrivano in ritardo quindi devi aspettare almeno 30 minuti e spiega a quelli come me che la moda la seguono poco cosa c'è di bello nella fashion week? perché bisogna seguirla? ma c'è tutto di bello c'è tutto no, perché ovviamente le marche sfilano le nuove collezioni e e poi vedi tutto non lo so, ci sono tanti ospiti che vengono dappertutto soprattutto per Milano Fashion Week però secondo me Milano e Parigi sono quelli più importanti siamo ancora tra quelli più importanti Milano sì, sì c'è anche New York c'è anche altri non ci hanno ancora scalzato? no, no, no secondo me New York adesso sta riprendendo London Fashion Week secondo me non è ai livelli di Milano? no è morta un paio di anni fa però Milano e Parigi è davvero where it's at ecco ma la cosa interessante appunto è cosa tu sai già un po' che cosa vedremo cioè quali sono le tue aspettative verso questa Milano Fashion Week che ricordiamo è donna giusto? sì questa è donna donna autunno no, primavera estate del prossimo anno giusto? perché siamo mal di un anno esatto esatto che cosa ti aspetti di vedere? non lo so sinceramente non lo so forse è un botto di denim secondo me ah torna il jeans torna il denim c'era già l'anno scorso però penso adesso anche florals florale? sì ah ok florale secondo me perché torna Marni qua a Milano chi è Marni? spiegami non so minimamente chi sia quindi no devi spiegarmi tutto no una marca è una marca cioè diciamo che concentra con tanti colori tanti stampe quello molto elegante ma molto molto creativo ah ok sì quindi il florale diventa anche un abito elegante non solo per andare a fare il picnic al parco no per tutto per tutto per tutto devo dire che anche Selina infatti oggi sei messa sei molto fashion anche tu questa mattina grazie no ma devo essere fashion week sei messa in linea e quindi il jeans che è il suo è perché c'è il ritorno del denim no ma guarda anche questo qua è un po' denim ah anche quello sopra fatto l'abbinamento oggi ecco 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 bene allora oggi ne parliamo con Selina che rimane qui con noi perché appunto vogliamo capirne di più di questa strana settimana che fa impazzire tutti quanti anche milanesi ma per altri motivi milanesi impazziscono per altri motivi per il traffico per il rebelot che c'è in giro non so come si dice in inglese rebelot ma spero che tu abbia capito invece arrivano tutti a Milano per vedere questa fashion week le star che sappiamo già che saranno da queste parti ci saranno tutti tanti cantanti cioè Cani Cani era ieri ah Cani era qua per ieri sera allo stadio quindi rimarrà rimarrà sicuramente anche perché lui farà ma che problema che va in giro col passamontagna non ho capito che problemi c'ha è un icon ah ok così forse non ha messo la crema solare ah ecco quello può essere può essere no sembra uno che deve fare una rapina allo stadio non capivo quando ho visto la foto e non ho letto il titolo pensavo ci fossero degli ultra che avessero fatto chissà cosa allo stadio faccino rose che avevano messo a ferro il fuoco allo stadio poi guardate ha detto ah no ma è Cani no ma Cani è così comunque rimarrà qua e sicuramente andrà alle sfilate anche perché tra un paio di giorni ci sarà anche il suo listening party secondo me ma a Milano si si ma poi lui ha messo i cori dell'Inter nel suo ultimo disco ma come è questo amore per Milano da cosa è nato non lo so però è una cosa che tutti si sono impazziti infatti infatti siamo rimasti molto molto colpiti e allora andiamo con un po' di musica no non è Cani ma è Angelina Mango direttamente dalla festival di Sanremo la vittoriosa Angelina Mango con la noia che è quella roba che i milanesi dicono no la settimana della moda che noia che noia e invece invece Selin ce lo racconta bene a fra poco è la cumbia della noia Angelina Mango ma la noia non ci assale qui perché con Selin cerchiamo di capire tutto quello che c'è da sapere sulla fashion week sulla fashion week allora la fashion week prima di tutto partiamo dalle basi l'abc i fondamentali come nel basket ok allora quante volte all'anno c'è la fashion week due volte per donna due volte per uomo ok quindi in totale quattro volte per il traffico perfetto però poi ai parigi hot couture anche che fanno a Milano no lo fanno a Parigi però a Milano ci sono quattro ok a Milano quattro perfetto quindi va bene il traffico quattro volte invece due per uomo due per donna perfetto la fashion week fa vedere fammi capire se è così quello che noi dovremmo più o meno indossare o comunque l'idea che gli installisti hanno avuto per noi per il prossimo anno giusto esatto quindi se si fa adesso che è inverno è per l'estate del 2025 esatto giusto ok perfetto io non mi ricollerei neanche cosa mi hanno fatto vedere no è quella collezione per l'anno dopo per l'anno dopo esatto ok quello che vediamo alle sfilate è quello che poi vedremo nei negozi sempre in generale sì ok quello è ready to wear ah ok quindi noi vediamo già quello pronto si puoi vedere quella collezione è là ok quindi quando vediamo invece quegli aviti strani così non le vediamo durante le fashion week sono altre cose quando vediamo tutti quegli studi ma anche sì anche sì dipende dalla marca dipende dalla designer però quelli molto molto più creativi sono più hot couture ok ok ma quante sono più o meno le marche i marchi e le sfilate che ci stanno più o meno nel senso non voglio sapere precisamente sono qualche centinaio immagino sì no no tante perché diciamo che in un giorno forse ce ne sono 15 ah però tra 10 15 ci dipende ed ecco il motivo per cui è impossibile seguirle tutte esatto esatto c'è una ogni ora ok quali non si possono perdere oh secondo me Prada sicuramente Prada Prada Armani ma Armani adesso Giorgio non me ne vuole dire nel senso grande viva l'Armani l'Olimpia Milano e tutto ma non sono sempre uguali eh non siamo sempre spettando la stessa roba no 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 perché per me secondo me oggi mi sto armare un po' no per donna almeno per donna no secondo me no perché ogni collezione ha una tema normalmente da una origine da un paese e è davvero una masterpiece di lui cioè mette tanto a creare questi pezzi incredibili con così tanto dettagli anche però io direi Armani Ferragamo Bottega e Prada secondo me questa è la tua top che non si può non si può no no quante riuscirai a vederne tu? oh non lo so però noi lo so già che Amy mi odierà perché saremo in giro per ogni giorno ah perché tu sei come tutte quelle che parlano di moda hanno un povero fidanzato che le segue a fare foto video giusto è così no eh come si chiama salutiamolo come si chiama? Amy Amy siamo tutti siamo tutti con te sappilo siamo tutti solidari con te hashtag io sto con Amy va bene ok support group infatti io fossi in te farei il backstage del backstage un profilo tuo dove fai vedere la mia povera vita durante la fashion week il mio POV infatti e tu cercherai però di portare a casa diciamo il più possibile di informazioni di interviste chi è che ti piacerebbe intervistare che magari non è ancora potuto intervistare in questi anni sa che no anche un'altra spilata che non dovete perdere è Gucci ah Gucci vorrei andare a Gucci perché la perché vuoi dei regali per quello no sì però in generale ci sono tanti cantanti che vanno da Gucci perché Gucci ha questo allegamento con gli artisti quindi per andare là intervistare dei cantanti anche internazionali ma questo legame appunto di una maison con i cantanti è proprio una strategia di marketing che porta poi ad avere ancora maggiore appeal sul pubblico finale certo 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 perché tu hai un accesso non solo ai attori e influencer però anche ai artisti che adesso ma anche da da anni hanno questo allegato della moda anche da Versace io mi ricordo i run DMC che si mettevano le tute dell'Adidas che fosse una delle prime cose fatte nella storia così anche unire una roba che non era di haute couture ma era molto l'Adidas e vestiva i run DMC che potevano mettere solo Adidas hai visto Sanremo? sì allora parliamo invece di Sanremo un attimo fashion Sanremo moda tantissimi elegantissimi chi ha vinto secondo te però dal punto di vista della moda a Sanremo ti do il mio top 3 vai ok c'è Clara Gali e Mahmoud è Clara molto elegante molto elegante la sua stilista ha fatto un bel lavoro la Gali ha anche messo molto particolare devo dire e Mahmoud che quando è uscito col vestito dell'amoroso stava meglio che l'amoroso stava benissimo effettivamente nulla da dire con la spalla scoperta ma lui ha sempre un bel stile Mahmoud il suo stilista lavora bene quindi ormai non devi essere più bravo solo a cantare devi essere anche bravo ad avere chi ti veste bene ma perché tutti ti guardano soprattutto su Sanremo cioè non è solo una una competizione canora no ma è proprio un grande show o molti di noi una grande un gran baraccone un gran circolo definiamo ma no invece è un grande show e ne abbiamo visto anche che infatti continuiamo a parlarne dopo settimane e continuiamo a parlare anche i giornali hai nominato Mahmoud e allora andiamo con tuta gold ed è zucchero per colpa di chi? mia sicura no Selina non so se è colpa tua sicuramente adesso però Selina fuori onda mi ha detto parliamo di come potrei ripensare al tuo stile cioè al mio al tuo stile oddio ho paura Selina parliamo della tua fai tu parliamo della mia fai tu dimmi tu cosa devo fare per migliorare o peggiorare il mio stile perché magari è già così alto il mio stile che devo invece peggiorare no ma stile è una cosa molto personale è un modo di esprimersi quindi io voglio sapere tu quando ti svegli tu dici ah io voglio mettermi questo però perché? allora io quando vengo a fare la trasmissione la mattina voglio mettermi la felpa stranamente oggi non sono in felpa voglio mettermi la felpa perché sono comodo comodo quindi per te il stile è per essere comodo? dalle 7 alle 9 sì dopo si può anche invece migliorare ma dalle 7 alle 9 deve essere comodo comodo ok però quindi dopo le 9 cosa ti metti? dopo le 9 se non ho niente da fare rimango con la felpa devo dire la verità se no vabbè camicia e bretella ok ok c'ho la bretella anche sotto qua e con la maglietta vuol dire c'ho la bretella sotto anche oggi e quindi come cioè come puoi descrivere il tuo stile è uno stile casual casual comodo ok ma che strizza l'occhio l'eleganza ok mi piace come e se tu hai un evento sì cosa ti metti? ah no lì ce l'ho ce l'ho ce l'ho c'ho il mio guarda c'ho proprio un vestito d'ordinanza mio vestito blu ok di solito sto sui blu ok quindi blu azzurro blu c'è uno anche blu un po' scozzese ma sempre blu è scarpa da ginnastica però perché? perché mi piace ok proprio perché mi piace nel senso si poggio sui stivaletti ma mi piace più scarpa da ginnastica e camicia tipo rosa o bianca o comunque un colore chiaro con la cravatta intinta con le bretelle ok sì ricercato ricercato sì fa schifo a vederlo ma è ricercato mi viene male alla fine però l'idea c'è di base però l'idea ti piace sì sì molto molto ok ma c'è una una persona in cui cioè tu dici wow mi piace il suo stile vorrei vestirmi così urca non so un po' beh la bretella richiama un po' Larry King che voi non conoscete è un giornalista americano così e aveva una show scusami aveva sì The Red King Show infatti quello non so e non lo so sì un po' così un po' da camicie ma camicie e bretella mi piacciono tanto quindi chi è che potrei fare sì Larry King adesso Oggiano si veste così ma secondo me ha copiato lui da me perché in più anni che sono in giro io e non lo so no non lo so saluto Oggiano e attualmente non saprei farei difficoltà appunto se uno va in giro come Kenny West col passamontagna faccio fatica a pensare di vestirmi come lui capito o la tutta gold o la tutta gold ma capisci che non è facile no vabbè stile è una cosa molto personale non lo so chiedo l'aiuto da casa regia a chi posso ispirarmi in realtà c'è una persona che mi ha sempre ispirato ma anche lì non lo conoscete forse sì non so che era Chiambretti che metteva lo smoking con la superga bianca sotto mi piaceva tanto ah ok c'è un casual chic sì sì mi piaceva tanto poi ho scoperto ogni dopo che era di Torino ed era sponsor della marca della superga lui prova bene però mi piaceva però c'è l'abito il suit con i trainers è una cosa molto casual chic adesso c'è una cosa che invece di andare tutto con una suit con la camicia tutto puoi anche fare l'abito con una maglietta bianca o nero sotto se è ancora chic però un po' più casual anche ecco la maglietta e la giacca non riesco a metterla nel senso abbiamo fatto un esperimento ieri è stato fallimentare no no nel senso diciamo che non ho il physique du roll di mettere la maglietta sotto la giacca vabbè anche perché non mi si chiudeva neanche la giacca quindi insomma era un po' un problema dipende anche che tipo di maglietta ti metti sotto è una bellissima maglietta di pingu ci tengo a dirlo insomma non so se è proprio il vibe dell'abito però ci può stare ma invece tu a chi ti ispiri c'è qualcuno a chi ti ispiri come stile come stile cioè non c'è una persona però per me mi piace un mix delle cose vintage anche perché nel mio guardaroba c'è un botto di vintage le cose della mia mamma la mia tia ah bello quindi un vintage con un tocco di contemporaneità è come ascoltare i Beatles con l'iPhone 15 il concetto è quello un tocco di vintage con un tocco di modernità ci sta ci sta ma è importante ispirarsi a qualcuno o a qualcosa per avere il proprio stile ma soprattutto è importante avere uno stile secondo me sì sì perché per me è una parte della tua identità cioè è una parte di esprimersi perché non è cioè tu non hai una personalità solo dentro di te ce l'hai anche fuori c'è un modo di vestirti come a te piace ci sono persone che non sanno proprio come vestirsi però forse è perché non sanno proprio come esprimersi in quel modo chiarissimo e invece chi come me ma questo me lo dici dopo perché adesso poi invece andiamo veramente con Mahmood tutta gold che prima non è partito ma adesso l'abbiamo messa in scaletta chiedo scusa all'ufficio programmazione come si fa invece perché io vorrei essere tutti i giorni cravatta bretella in colore con la cravatta camicia e così ma poi sono cappellino da baseball e felpa ho questa dicotomia interna come faccio questa lotta interna me lo dici dopo colui che invece ha portato al successo una tuta gold che gli hanno chiesto ma cosa significa tuta gold è una tuta gold semplicemente non era così difficile effettivamente Mahmood tuta gold buongiorno vita buongiorno a tutti buongiorno good morning Milano 8 e 21 minuti ancora qui con Selina stiamo parlando di fashion week e di moda e la domanda era questa allora come facciamo a far convivere ad esempio uno come me che ha dentro di sé una dicotomia da una parte vorrebbe vestirsi come prima suggerivano anche Jackie Stewart tra l'altro quindi con magari la cavattina il gilet il vestito un po' elegante ma comunque un po' british ma dall'altra parte quando esce poi e vede la sua bel felpone rosso il suo bel cappellino da baseball mette su quello ed è felice e contento così beh beh in ogni caso c'è la comodità e poi c'è c'è la moda puoi anche fare tutti e due insieme però per me secondo me comunque se tu hai uno stile in cui tu vuoi vestire così devi provare devi provare anche per capire se ti sta bene perché forse ti faccio allora io sto bene con tutto per tutto questo quindi no ma il problema è la pigrizia in realtà in quel momento eh devi io so di stare no no adesso seriamente so che sto bene se mi metto la cravatta la giacca però poi il sopravvento non prende la pigrizia e la comodità eh vabbè anche me anche io posso uscire con una hoodie e denim e sono comoda quante volte l'hai fatto in vita tua vai no no tante ah sì ok quando ero una studente vivo solo quello ah ok però c'è anche una riflessione di te quindi se tu hai un evento o vuoi svegliarti dalla mattina e dici wow ho tutta questa energia voglio vestirmi bene voglio che tutti mi guardano voglio sentire bene devi vestire bene perché ti dà anche quella push dal tuo ego forse il tema è quello che facendo la radio non mi vedono e allora un po' me ne sbattono non è vero perché invece se mi ronda anche su Milano News mi vedete anzi un saluto a chi ci sta guardando in questo momento in diretta video su Milano News che rivedrà poi anche gli interventi di Selin nel nostro podcast video podcast su Spotify su Apple Music Google Podcast e sul sito abbiamo anche un sito da questa settimana abbiamo il sito del programma goodmorning.milano.it più facile di così se amore quindi bisogna il tema è questo comodità e moda possono convivere sì 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 cioè non è che devi stringersi per mettere qualcosa nel mio caso sì perché la mia taglia è difficile da trovare insomma è più un fatto che ti dovrebbe fare piacere vestire bene anche perché è più una cosa divertente anche cercare delle cose che ti piace che puoi mettere insieme se è una cosa di pigrizia mettilo al guardalova il giorno prima così al tuo faccia quando ti svegli ok io voglio mettermi questo domani io lo faccio con la felpa con la roba lì me la preparavo la sera prima e mi preparavo comunque la felpa con le felpa sì sì quello sì ma prima io sono un po' malato di felpe come dire sai chi c'è che è malato di sneakers ho messo un malato di felpe felpe completamente anonime ma che mi piace avere di tutti i colori possibili puoi anche mettere una felpa fashion con i pantaloni fashion e i sneakers e là c'è la comodità però in stile ah ok devo riuscire a unire le due cose adesso devo vedere un po' come si veste cani e capire un po' dai da car heart chi car heart car heart per chi dice come me ok ma noi possiamo dire chiedo al presidente in questo momento sarà sicuramente in ascolto ma possiamo dire liberamente su tutte le marche o facciamo la fine di amadeus a sanremo no giusto per capire vorrei capire però no non siamo pagati né io né selene da nessuno dei marchi anzi se però volete noi siamo pronti ah volendo saremo felici ecco selene è prontissima a fare la testimonian nel caso va bene andiamo con big mama i giornalisti con felicità puttana alle 8 e 33 minuti qui su cristal radio good morning milano di oggi mercoledì 21 febbraio stiamo parlando appunto della fashion week di moda insieme qui a selene che insomma ne sta tanto ci racconta poi stai già facendo dei contenuti ho visto stai già in giro a fare contenuti oggi tutto il giorno no ma io ho questa cosa che voglio fare un video ogni giorno un video ogni giorno ok ogni giorno un video una clip una fashion clip every day ok attenzione allora perché se giri a piedi o con i mezzi non c'è problema ma se giri in macchina attenzione che ci sono gli autovelox perché vi dico questa cosa perché da Corriere della Sera Milano Fleximan colpisce anche a Bucinasco ebbene si ha battuti quattro autovelox installati da poche ore nel comune di Bucinasco il sindaco Pruiti dice certi gesti non ci intimidiscono ovviamente non sappiamo se è l'origine il Fleximan originale o qualcuno che faccia la sua parodia sta di fatto che appunto quattro sono gli autovelox di Velti nella città appunto nel comune di Bucinasco ricordiamo zona sud-ovest della città lungo il Naviglio quindi attenzione come è andato in giro non si può girare in macchina impossibile no no in macchina non ci arriviamo mai oggi quali sono gli appuntamenti della giornata oggi in realtà Fendi 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 è quello che vogliamo andare ok ok e che cosa racconterà nei tuoi video questa settimana questa settimana sarà un mix di domande sulla musica e anche soprattutto di Milano quindi tipo qual è la canzone che hai nella tua testa in questo momento ah ebbene io quell'ultima che è andata io cambio ogni 4 minuti perché in base all'ultima che va mi rimane in testa no devo dire che no forse una delle canzoni in più è La Noia di Angelina La Noia la mia è tutta gold eh sì sì sono quelle lì non puoi non averle in testa se invece pensi a Milano che canzone ti viene in mente? se penso a Milano che canzone? sì o comunque che la leghi a Milano nel senso o non lo so per me è Felicità Felicità? ah dai bello no perché sì ma è molto cringe questa cosa no e perché ma perché deve essere una roba no invece è molto tenera come cosa insomma sì ma non lo so come straniera cioè è molto più facile per me allegarla a Felicità perché ogni serata che andiamo fuori mettono Felicità e ci sono tutti che lo urlano cioè pensa che è una canzone di più di 40 anni fa e ancora fa sì fa il suo fa il suo corso no? veramente comunque è dell'82 dall'82 credo se non sbaglio dall'82 eh guarda quindi insomma sono quasi 40 anni insomma non male non male e sono più di 40 anni comunque e io penso l'abbiamo sentita poco fa l'abbiamo sentita questa mattina Lucia San Siro per me è una delle canzoni che leggo a Milano e parla di Milano e secondo me è una di quelle canzoni che racconta proprio anche uno spaccato dell'artista e della canzone milanese probabilmente non so se tu conosci tutto Gaber Giannaci quel mondo lì di musica e canzoni che hanno a che fare con la città magari ecco compiti per la settimana prossima ok se non ci rivedremo qua la prossima volta Selin vai un attimo a scoprire Giorgio Gaber ed Enzo Giannaci ok non so quanto una che arriva da Londra possa capire di quella roba lì nel senso che è un po' complicata però magari invece vabbè provo infatti perché no perché no magari inizia con Gaber perché Giannaci canta anche i milanese sono un po' più difficili alcuni passaggi magari sono un po' più complicati ma so che ci sono le canzoni con i sottotitoli anche ok quindi c'è tutto c'è tutto chissà che magari non esista anche qualche versione tradotta in inglese secondo me perché potrebbe essere ormai è internazionale comunque vi ho dato un po' di indicazione appunto attenzione agli autovelox attenzione anche a Fleximan anzi poi nei prossimi giorni sentiremo anche il sindaco Pruiti cerchiamo di capire davvero che cosa sta succedendo in quella di Buccinasco e attenzione oggi se circolate per la città perché appunto la Fashion Week è ormai nel suo pieno svolgimento oggi inizia col botto andrà avanti fino a venerdì giusto anzi no weekend no fino a domenica fino a domenica fino a domenica fino a domenica tutto il weekend quindi armate di santa pazienza i luoghi della Fashion Week sono ovunque però ovunque non c'è tipo oggi dicevi che vai da Afri no Fendi a Fendi dove lo fa via Solari ah ok via Solari no ma in realtà sfilano ovunque ovunque non c'è mai un posto posto più assurdo in cui hai visto una spilata oh posto assurdo vabbè assurdo non lo so però era strano ma bella era la besana ah la rotonda la besana bella sì sì no ma un'idea pazzesca sì sì bella bella penso che ogni anno ci siano sfilate lì perché mi ricordo che tantissimi anni fa c'era già stata qualcosa penso che ci hanno fatto anche dei concerti dentro ah sì sì c'è un famosissimo concerto di l'Ilo Storie Tese fatto all'interno della rotonda la besana beh è un luogo un luogo pazzesco bellissimo anche di farlo era Max Mara due anni fa no no era bello bene bene dopo sentiamo bene ci dà qualche indicazione su magari anche come fare a imbucarsi se si riesce a imbucare in qualche maniera o no ci dà qualche indicazione di entrare eh si riesce in qualche maniera c'è qualche scamottaggio che si può fare io l'ho fatto devi avere tanto tanto faccia di merda se decidi italiano sì ecco esatto anche quello scusate confident you have to be confident ah cioè devi far devi credertela sì devi far credere sì esatto se tu te la credi cioè bam sì 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 come io no cioè io sono parte delle viste infatti sono qua è casa mia no ma ovviamente sono il signor besana ci sono quelli che sono proprio impossibili Foo Fighters con The Glass 8.42 minuti Cristian Radio Good Morning Milano settimana della Fashion Week stiamo parlando appunto di moda e fashion insieme a Stelin che dicevamo Stelin in realtà tutti fanno a botte per poter entrare alle sfilate ci si trova ci si inventa di tutto di più per poter entrare ma poi il vero spettacolo è fuori però è vero no no è vero perché cioè quando arrivano gli influencer le modelle e attori tutti i star cioè camminano per un botto di tempo solo per prendere quelle foto street style cioè vanno avanti e indietro davanti all'ingresso quando potrebbero benissimo entrare ma solo per farci fare le foto sì 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 perché vogliono le foto perché ovviamente sono quelli che vedi sui social quindi per loro è pubblicità e hai tutti i fotografi che aspettano fuori anche quindi hai anche i studenti di moda tutte le persone che sono appassionate di moda che si vestono bene e sfilano anche loro fuori quindi c'è proprio un show anche fuori adesso vado a comprarmi anche un bel vestito quello da dinosauro quello lì che si gonfia e domani vado avanti e indietro davanti a Prada avanti e indietro faccio così ma viene l'ambulanza a portarmi via ho paura ma appunto c'è c'è qualcuno secondo te l'influencer nasce con la moda diciamo forse Chiara Ferragni è stata la prima che ha iniziato a parlare di quelle cose lì e tutto è inventato poi un mondo è nato un mondo da lì continuano a esserci però gli influencer crescono e crescono sempre di più un po' come l'erba grama no scherzo no ma chi è che secondo te adesso bisogna seguire per avere un po' di di idee serie inspo? sì questa è una domanda bella oltre a Selina ovviamente oltre a me vabbè ci sono un bot di giovani su TikTok che adesso sono stati invitati alle sfilate soprattutto a Prada e stanno prendendo tanti giovani su TikTok però poi ci sono anche quelli su Instagram che sfaccano e sono sempre stati invitati soprattutto quelli diciamo di Londra e USA cioè tutti hanno una stile completamente diversa quindi se tu vai su Instagram sicuro ci sono chi è l'influencer numero uno adesso sul mondo della moda? numero uno penso per contenuti è Leonian che lei è penso di tedesca però è passata a Londra però è she signed a un'agenzia qua a Milano e lei fa contenuto di tutto tutto non c'è una marca in cui non ha lavorato quindi per lei Fashion Week è una cosa che tutti i fotografi tutti content creators aspettano per lei per arrivare c'è anche quindi non si cerca più Anna Wintour adesso ma si cerca ma anche Anna Wintour funziona ancora sai che quando sono andata alla sfilata di Max Mara c'era Anna Wintour proprio accanto di me c'era la bodyguard che mi ha spinto io ero tipo faccia di me quello che vuole ma sono qui per Anna eh sì no cosa sta succedendo mi sono girata ho visto la Bob di Anna Wintour ho detto ok va bene tu mi puoi spingere quanto ne vuoi è ancora un mito indiscusso sì certo poi hai anche l'editor di Vogue Italia Francesca Ragazzi e lei anche è molto importante per Milano Fashion Week ma appunto queste sono riviste cioè una cosa che sembra ormai morta e stramorta nel mondo comune normale invece nella moda non è morta cioè il digital sì ma questa roba qui c'è la rivista Vogue e chi per esso e le altre funzionano ancora funzionano ancora perché sono quelli cioè Vogue è quello numero uno se non c'è Vogue a chi altro vai va bene l'Officiel Harper's Bazaar però Vogue è Vogue ci sarà sempre e sempre sarà così da quanto abbiamo capito andiamo con un po' di musica intanto allora The Chainsmokers con Haig Haig Chainsmokers anzi come è che si chiamano The Chainsmokers con Haig 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 ah non c'è la G-9 non c'è sì ma mia dovremmo fare un corso English for Dummies con con Celine Crash Course con me eh sì dovremmo fare una cosa così perché è davvero complicato come è che si chiama l'acqua water eh cosa è difficile cosa è difficile ogni volta water 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 non c'è l'R ah non c'è water 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 esatto esatto ce l'hai ricordo ricordo una bellissima puntata di Piff con il testimone che praticamente fanno dieci minuti a cercare di dire water water sì perché poi c'è un americano un italo americano lui un inglese sembrava una barzelletta sembrava fashion week quindi stiamo parlando di moda moda abbiamo parlato della comodità abbiamo parlato di rifarmi il look abbiamo parlato degli influencer da seguire in questo momento le sfilate abbiamo detto no oggi le sfilate oggi quelli più importanti sono fendi c'è anche secondo me c'è anche Onitsuka Tiger che è da seguire questo lo conosco Onitsuka Tiger fa solo scarpe da ginnastica però no sì esatto però è anche una marca di streetwear ah quindi non fa solo scarpe fa anche pantaloni e felpe mi fa le felpe però posso pensare ma c'è giacche vestiti no ma molto figo è giapponese no cos'è giapponese potrei signor Onitsuka sentiamoci mi puoi dare il look per venire qui in onda a parlare tutti i giorni io ti vedo in Onitsuka mi vedi c'è una tuta una tuta Onitsuka ci sta ci sta io in tuta non la metto l'84 la tuta quando facevo ginnastica all'asilo però con la radio con le toppe sui ginocchi perché con i ginocchi rotte con la radio è tutta la nylon forse non è la no la cosa migliore prendo fuoco rischio di autocombustione da nylon e cavi elettrici no dico per il suono ah per il suono esatto esatto screccio sembra che screccio benissimo domani cos'è che programmi hai invece per la giornata di domani oh domani è Prada ah domani tutta la giornata Prada no domani c'è c'è tanto aspetta che abbiamo qui è veloce ecco ma aspetta tu stanno sul sito a vedere ti sei fatto no se vai su camera ti sei fatto un excel tuo google maps ce l'ho il mio agenda però c'è anche il calendario come si chiama la tua agenda EMI EMI si chiama così no in realtà no si chiama Selene's Calendar perché se chiedo EMI il calendario è perso lui lui povero EMI lui lo porta in giro porta in giro fa le foto fa i video quante volte ti fai rifare foto e video ogni volta io lo rifaccio fare un paio di volte ecco va bene poverino santo subito no lui deve avere un po' di pazienza con me va bene tranquillo EMI succede solo quattro volte all'anno esatto va bene dai è una tassa no domani in realtà oggi c'è Fendi Diesel e forse oh Etro anche stasera Etro Etro è quello di guardare anche poi domani quello importante è Prada sicuramente e c'è anche Emporio Armani e Tom Ford alla sera venerdì c'è Blue Marine è importante Tod's Gucci Marni e Versace e sabato c'è Ferrari Ferragamo quello importante ok Missoni 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 wow Bottega Veneta ah domenica domenica c'è Giorgio Armani ah si chiude col botto si chiude si chiude sempre con Giorgio Armani ah lui è il padrone di casa vedete quanto ne so cioè io so che i concerti di Vasco Rossi chiudono con Alba Chiara ma non so che la Milano Fashion Week chiude con Armani chiude sempre con Armani Armani è l'ultimo sempre no l'ultimo no però lo fa sempre l'ultimo giorno chiude lui perché così si chiude con il botto esatto Selin grazie mille davvero per essere qui con noi questa mattina grazie a voi siamo in chiusura ricordaci invece le tue coordinate dove possiamo seguirti sui social e quello che fai sui social appunto certo sui social mi puoi trovare su Instagram a chiocciola selin natur selin natur esatto scritto così lo troviamo e poi musica bella da Dio musica bella da Dio esatto insomma i tuoi video le tue incursioni nella nostra città abbiamo visto sia in veste in italiano che in inglese abbiamo visto ormai un mix adesso ormai mixi tranquillamente quindi insomma abbiamo visto una bellissima intervista a Clara dove anche lei un inglese ma complimenti ma sì ma lei ha la mamma che è un'insegnante di inglese quindi è molto fortunata si lamentava del suo inglese è troppo facile troppo facile aveva l'accento perfetto comunque perfect lovely perfect 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 from London benissimo allora Selina grazie mille davvero di essere qui con noi grazie mille thank you anzi come diceva qualcuno prima di noi thank you e quindi noi andiamo invece con la nostra sigla 8 e 55 minuti mercoledì 21 febbraio stiamo chiudendo stiamo per salutarvi anche questa puntata di Good Morning Milano volce al termine e oggi abbiamo parlato di tante cose abbiamo parlato di fashion abbiamo parlato di moda abbiamo parlato del traffico come sempre sempre qui che ci racconta tutto questo tutto questo grazie a Selina che potete appunto seguire sui suoi social Selina Natur e anche su musica bella da dio dopo di noi dopo di noi Ambrogio Curti senti questa c'è il giornale radio e poi arriva Ambrogio con la grande musica internazionale raccontata dalla perfetta bellissima e competente voce di Ambrogio Curti e comunque sì c'è la Fashion Week quindi se dovete girare attenzione a dove andate come andate se trovate tanta gente fuori da un posto è perché c'è una sfilata poi ho lista a voi o fate come ha detto Selina cercate di bucarvi feel confident be confident andate dentro oppure girate alla laga io farei così sinceramente e le voci che avete sentito oggi sono quella mia di Fabio Ranfi e di Selina qui con noi grazie ancora Selina grazie a tutti voi che ci avete ascoltato ci sentiamo domani come sempre dalle 7 alle 9 qui su Cristian Radio con Good Morning Milano come è che dice Good Morning Milano a domani ciao